Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. Allora, cari signori, uno dei regali più importanti che mi è stato fatto lo scorso anno, nel 2018, è stato indubbiamente questo libro. Un libro che è assolutamente fondamentale per la comprensione di certi meccanismi della macchina militare italiana, ovvero la meccanizzazione dell'esercito fino al 1943, Lucio Ceva e Andrea Curami, una pubblicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito, l'Ufficio Storico. L'amico Tony De Mario, con una generosità che io non finirò mai di ringraziare, mi ha regalato l'opera, questo è il primo volume, e devo dire che si tratta di un libro a dir poco illuminante, come dico sempre, per chiarezza espositiva e per capacità di analisi. Si è parlato spesso della questione relativa al duopolio Ansaldo-Fiat e alla fine e al perché e per come tanti altri produttori interessati al mercato delle commesse militari per la costruzione dei carri armati furono estromessi in favore del cosiddetto duopolio Ansaldo-Fiat. Sentiamo un po' che cosa ci scrivono Ceva e Curami nelle pagine del libro nel capitolo relativo alla fine della concorrenza industriale nel campo dei carri armati. Allora, scrivevamo alla fine del capitolo precedente che, oltre alla Fiat, altre quattro industrie avevano dimostrato interesse a costruire carri, ovvero sia Moto Guzzi, Oto, Carraro e Ansaldo. E avevamo notato che solo l'ultima di esse era rimasta in lizia dopo aver accettato la partecipazione motoristica della Fiat ed aver abbandonato quella della Carraro appartenente al gruppo Caproni. Poiché va escluso che l'estromissione di Moto Guzzi, Oto e Carraro sia dovuta a inferiori caratteristiche di loro progetti che, del resto, nessun concorso aveva giudicato, è da supporre che si sia provveduto a disinteressarle altrimenti. È una supposizione con lineamenti che ricordano alquanto la fisionomia delle certezze. Ah! In vero, la Moto Guzzi, dimenticata ogni velleità nel campo dei carri armati, sembrò soddisfatta da ampie commesse di motocicli, anche armati, di moto carrozzette blindate e assortimenti con generi, corazzati in parte dalla Breda e in parte dall'Ansaldo, nonché di moto-tricicli atti al trasporto della mitragliettrice pesante Fiat. Ciò risulta sia dal materiale fotografico sia dalla pubblicazione di Mario Colombo intitolata Moto Guzzi a Risale al 1977, l'opera fondamentale per la storia della Moto Guzzi fino agli anni 70. Dicevo, contemporaneamente si dedicavano pressoché in toto al mercato civile primarie ditte come la Gilera e soprattutto la Frera, sino ad allora quasi unica fornitrice motociclistica dell'esercito. Difatti, la Frera fallì poco prima dell'inizio della guerra. Più complesso il caso della Odero Terni Orlando Oto. Questa società era sorta nel 1929 allorché i cantieri navali Orlando avevano incorporato sia la Odero Terni sia la Orlando. Essa esercitava una notevole parte dell'attività cantieristico-meccanica del gruppo Terni. Amministratore delegato della Terni, nonché consigliere delegato della Oto e di svariate altre società, era il senatore Bocciardo. Nel 1933 Liri aveva assunto il controllo di queste come di molte altre società industriali, senza modificare la titolarità delle cariche, ma realizzando in sostanza la statalizzazione industriale più estesa al mondo, seconda solo a quella totale dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Eh, lo Stato che si fa imprenditore, un'anomalia tutta italiana e si sono visti i risultati. Allora, tuttavia l'impero del senatore Bocciardo aveva corso un grave rischio, almeno dal punto di vista di Bocciardo stesso. A seguito infatti della sistemazione bancaria, come scrisse Pasquale Saraceno, Liri si trovò a controllare due società siderurgiche, ovvero sia Ilva e Dalmine, un complesso siderurgico-meccanico-elettrico-chimico, cioè la Terni, e un complesso siderurgico-meccanico, che era l'Ansaldo. Una prima misura presa da Liri fu quella di rendere più omogenei i complessi siderurgici. Quello dell'Ansaldo venne scorporato dal gruppo Ansaldo è costituito in società distinta, la SIAC. Mentre dalla Terni, Liri rilevò il pacchetto di controllo della Oto, riducendo il gruppo alle sole unità ubicate nella regione ternana e operanti nei campi siderurgico-elettrico-chimico, mentre la Oto operava nel campo cantieristico-meccanico. Vabbè, un minimo di riorganizzazione serviva. Poco più tardi, Liri costituirà una speciale finanziaria, la FinSider, che controllerà le quattro società metallurgiche cosiddette irizzate, cioè Ilva, Dalmine, SIAC e Terni. È chiaro che alla Terni era stato riservato un trattamento molto particolare. Una cosa era infatti essere irizzati, conservando la propria totale o prevalente consistenza, come appunto riuscì alla Terni. Ben diverso era invece che l'operazione si compisse previa mutilazione della consistenza stessa, come accadde invece all'Ansaldo, la cui acciaieria fu scorporata diventandola SIAC, Società Italiana Acciaierie di Cornigliano. Le ragioni di questi scorpori erano varie, fra l'altro l'IRI del 1933-1934 non era ancora quello del 1937, divenuto ente di gestione a carattere permanente, con la legge del 24 giugno 1937, numero 905, ma aveva ancora la finalità di sanare le industrie e di ricollocarle presso il capitale privato tramite la sua apposita sezione Smobilizi. Unità industriali separate per settori omogenei avrebbero permesso più facili verifiche economiche, più pronto risanamento e quindi più probabile smobilizzo. Anche per questa ragione si assistette in quel periodo ad una generale specializzazione degli enti industriali, con nascita, ad esempio, delle società solo telefoniche per scorporo da più vasti complessi policentrici. A questa stregua il rispetto del librido siderurgico-elettrico-chimico della Terni non poteva giustificarsi con l'ubicazione in una sola area geografica, cioè la regione ternana, circostanza che avrebbe dovuto valere a più forte ragione per l'ansaldo e la sua acciaieria, che erano letteralmente contigue. Gli studiosi concordano nel ritenere che lo speciale trattamento riservato alla Terni fu dovuto all'azione fortemente persuasiva di Bocciardo su Mussolini. Nessuna meraviglia che Bocciardo, già titolare di eminenti posizioni nei consigli dell'Imi, dell'Ilva, della Terni e della Otto e prossimo a divenirlo in quelli dell'ansaldo e della Siac, non avesse obiezioni alle scelte del vertice politico, così, in tema di siderurgia in genera, come per determinate spartizioni e settorializzazioni dell'industria bellica. È probabile che molti orientamenti politici in tali campi coincidessero con le opinioni personali di Bocciardo ed anzi, molto spesso, fossero queste ultime a influenzare i primi. Non dimentichiamo, fra l'altro, che la futura posizione di Bocciardo, quale presidente Fincider, insieme con molte altre cose, farà di lui il mediatore in importantissimi contrasti, sia fra la siderurgia privata e quella pubblica. Le quattro irizzate, Ilva, Dalmine, Terni, Esiac, più le acceierie di Cogne, già in mano pubblica dal 22, sia all'interno di quest'ultima. Aggiungiamo incidentalmente che taluna delle coincidenti vedute del capo del governo e di Bocciardo attinenti all'industria bellica furono contrarissime al parere sorprendentemente poco ascoltato del vertice militare terrestre. Ah, oibo, oibo, oibo. A tali ragioni d'ordine generale di per se stesse assorbenti si aggiunga che la Oto ricevette importanti commesse d'artiglieria, una per obici da 149-19 e parte di un'altra per cannoni contraerei da 75-46 originariamente assegnata all'ansaldo. Del resto, un modesto rientro nel settore carri sarà consentito dopo il 1940 se non proprio alla Oto alla Terni con la corazzatura dei carri L6. Quanto poi alla Carraro basta ricordare che faceva parte del gruppo Caproni e non dimenticare l'entità di commesse aeronautiche in quel tempo assegnategli purtroppo sia detto per inciso ben raramente corrispondenti ad un'elevata qualità dei velivoli. Distolte così tre concorrenti l'ansaldo restava l'unica fra le industrie meccaniche ma non motoristiche che avevano dimostrato interesse per i carri armati allora la diplomazia dimostrata da Ceva e Kurami nel narrare questa vicenda è evidente ma siamo sinceri si può riassumere tendenzialmente in pochissime parole uno giro di mazzette due conflitto di interessi clamoroso conflitto di interessi del senatore Bocciardo pezzo grosso del regime presidente di buona parte delle acciaiere italiane nonché con le mani in pasta nei consigli di amministrazione FinSider e mente se vogliamo della cosiddetta razionalizzazione delle produzioni belliche interesse privato conflitto di interessi mazzette tante mazzette ma come dire qui arriviamo ad argomenti molto delicati ripeto la Moto Guzzi aveva presentato alcuni interessanti prototipi di carri armati che furono come dire che furono accantonati la Moto Guzzi venne tra virgolette ricompensata con le commesse militari per le moto e come si è visto la Carraro che forniva i motori per i primi carri armati italiani venne come si suol dire accantonata e il gruppo Caproni continuò a vendere i suoi pessimi e ripeto sottolineo pessimi aerei alla regia aeronautica insomma perché siamo sinceri il gruppo Caproni a parte come dire il suo polo tecnologico l'aereggiane durante la seconda guerra mondiale diciamo fin dagli anni 30 non ne azzeccò praticamente una perché praticamente come dire rimase clamorosamente indietro nell'evoluzione aeronautica mondiale nonostante fosse un gruppo presente anche negli Stati Uniti d'America nonostante fosse un gruppo industriale molto importante che aveva figliali all'estero la Caproni rimase sempre clamorosamente indietro perché la direzione la proprietà non aveva bisogno di investire in sviluppo e ricerca dato che le commesse erano comunque sia garantite ecco per non parlare poi del non pestiamoci piedi a vicenda tra 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 colleghi perché la Carraro forniva i motori per i carri armati ma rinunciò a entrare nel lucroso mercato delle commesse statali per i carri armati perché stava entrando qualcun altro nel lucroso mercato delle forniture per i carri armati devo proprio ricordarvi il mio odio per una certa squadra per una certa squadra torinese praticamente questa decisione improvvida e dettata da interessi personali spianò la strada all'arrivo della Fiat nelle forniture di motori per i carri armati motori che come ben sappiamo furono sempre estremamente problematici per i nostri carristi insomma il capitolo in questione dell'opera di Ceva e Curami è oserei dire illuminante su che cosa fu la ristrutturazione industriale la nazionalizzazione chiamiamola col suo nome uno dei tanti fallimenti dell'economia corporativa è in questa vicenda della nazionalizzazione della statalizzazione delle imprese statalizzazione che venne fatta non tenendo minimamente conto degli interessi privati e del conflitto di interessi di uno dei protagonisti cioè il senatore bocciardo che poi dopo spalancò se vogliamo alla Fiat le porte della fornitura per i motori per i carri armati creando così il famigerato duopolio Fiat Ansaldo che tanti danni fece durante la seconda guerra mondiale e che portò alla produzione dei nostri poveri mediocri e sfiatati carri medi M13 M14 M15 eccetera per non parlare poi dell'aborto non solo aborto come carro ma anche aborto come gestazione del P40 e del fantasma del famoso carrocelere saariano ma casomai di questo qui parleremo in un altro video insomma cari signori Ceva e Kurami ci hanno spiegato il perché della nascita del duopolio Fiat Ansaldo ci hanno spiegato anche come gli altri le altre industrie interessate alla fabbricazione di carri armati vennero come dire scoraggiate dal farlo favorendo l'ingresso dell'industria motoristica insomma favorendo l'ingresso della Fiat come costruttrice di motori nel lucroso e ricco mercato delle forniture per il regio esercito nelle forniture di carri armati per il regio esercito quindi cari signori io credo che ci sia decisamente poco da dire continueremo a parlare dell'argomento ripeto a tutti voi chi ha quest'opera se la rilegga con estrema attenzione chi non ce l'ha se la procuri perché ne vale veramente la pena quindi cari signori io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione come sempre arrivederci al mio prossimo video come sempre aspetto i vostri commenti le vostre considerazioni e le vostre correzioni a quanto ho detto tutto qua quindi cari signori vi ripeto grazie ancora arrivederci al mio prossimo video e di nuovo ciao 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 ciao